Finale playoff del Girone A tra Meda e base 96, seconda e terza forza del campionato, in un città di Meda gremito, minuto di silenzio per ricordare e rispettare le persone dell'Emilia Romagna vittime della catastrofe ambientale. Poi è partita vera e parte meglio la base 96 che conquista corner in serie mettendo alle corde la formazione di casa col Meda, consapevole che può bastare anche il pareggio per passare il turno. Base più libera di mente quando si mette in moto Cazzaniga, Sondolori, giocata del numero 10 che salta Martino, ma Chierico è attento, al minuto 17 però la base sblocca la partita, azione che parte proprio da Cazzaniga, sponda di Siviero, palla dentro del numero 10 con Marinoni ben appostato in area di rigore, rete numero 20 tra campionato e playoff per il numero 9 che segna e si gode il momento insieme a compagno di reparto per una base che passa e che prova a cavalcare l'onda nel primo tempo, palloni messi in mezzo su cui Chierico fa buona guardia, mentre il Meda va a sbattere sulla coppia di centrali rosso-verdi come in questo caso dopo la spizzata di Mazzini nel tentativo di mettere in moto filo meno mezz'ora. È il primo episodio dubbio del primo tempo dopo un pressing energico, apertura per Cazzaniga e intervento al limite pur fuori area di Michi col direttore di gara che comunque fa proseguire Cesana. Subito dopo prova ad impenserire Chierico con un destro secco da dentro l'area di rigore, il pallone però finisce a lato ma è l'azione successiva, quella più importante per la base 96. Lancio dalle retrovie, Marinoni si libera di un avversario e si invola in porta concludendo però a lato ma è dubbio l'intervento di Michi in area di rigore in recupero sull'avversario. Si resta sullo 0-1, Cazzaniga prova ancora a rimettere in moto Marinoni senza fortuna mentre dall'altra parte la punizione di Filomeno finisce alta con le immagini. Andiamo allora nella ripresa, subito spunto di Cesana che però non riesce a servire un compagno mentre il Meda nel secondo tempo è sicuramente più pimpante ma manca la vera e propria occasione da gol come in questo caso. I bianconeri guadagnano, Corner prova a rendersi pericoloso Di Maio di testa ma il colpo di testa finisce alto, Cairo li getta nella mischia Schinetti e il numero 19 prima delizia poi croce, tentativo di tiro in porta poi pallone sparato contro la panchina della base 96 e il direttore di gara lo espelle 12 minuti dopo il suo ingresso in campo. Meda in 10 uomini e base che prova ad approfittarne ma Marinoni spreca e calcia malamente rientrando sul mancino. Più pericoloso il colpo di testa di Mazzini pur debole e alto sopra la traversa ma di fatto il risultato non cambia più. Palloni messi in mezzo da una parte e dall'altra l'ultimo vero tentativo è il colpo di testa debole di Mazzini ancora una volta di fatto il più pericoloso eccolo qui il colpo di testa del numero 9 su assist di Filomeno. Per l'ultima occasione sale anche Chierico ma il risultato non cambia più. Finisce 0 a 1 col triplice fischio del direttore di gara che esalta la base 96. Il gol di Marinoni fa volare i rossoverdi che andranno ora al triangolare finale per sognare l'eccellenza.